Un grande applauso ad Attilio Fontana e a tutti i Lombardi che hanno tenuto duro nei mesi più difficili. Grazie Matteo, hai detto la cosa giusta. Grazie soprattutto ai Lombardi. I Lombardi hanno dimostrato in questi mesi difficili, durissimi, hanno dimostrato di essere una grande comunità che è stata coesa, che ha saputo affrontare le difficoltà e che non si è neppure lasciata distrarre dalle tante notizie false che venivano raccontate, dalle tante bugie con le quali cercavano di infangarci. Quindi grazie Lombardi e adesso vediamo finalmente la luce. Anche le nostre situazioni stanno migliorando, siamo arrivati ad essere zona bianca, le aperture sono settimana dopo settimana, presto toglieremo le mascherine, e presto potremo ritrovare quella libertà alla quale tutti quanti auspichiamo e aspiriamo. Perché quando si parla di libertà si parla di qualcosa che è complessivo. La libertà è anche la libertà di stare insieme. Oggi è una giornata di libertà, oggi è una grande giornata di libertà, perché possiamo ricominciare a stare insieme, possiamo ricominciare a applaudire o a fischiare, ma comunque a creare il nostro futuro. Il futuro del nostro Paese si crea nelle piazze come questa, perché è da voi che arrivano le idee, è da voi che arriva la forza. Io vi saluto dicendovi che oggi pomeriggio sono ritorno in Lombardia, più forte, perché so che ci siete, perché so che quello che sta succedendo è realtà. Viva la libertà e viva la Lega! Grazie a Dattiglio, dalla Lombardia passiamo...